È stato un buon trimestre, siamo di nuovo sul percorso di crescita precedente la pandemia. L'effetto del Covid-19 sulle catene logistiche non ci ha colpito in modo significativo. Abbiamo infatti i nostri drivers e abbiamo messo in sicurezza gli acquisti di energia, bloccando il prezzo a marzo 2020 per il triennio successivo. Dunque, noi non stiamo soffrendo almeno per ora. Ovviamente siamo esposti al quadro economico complessivo. Dunque, se l'economia soffre, ne risentono i volumi complessivi della logistica. Questo è un prezzo che potremmo pagare se la situazione dovesse peggiorare. Ma non pensiamo che ciò debba accadere.